Vi do un'ultima ora dall'Artico. Una nuova ricerca sul clima dell'ultimo periodo interglaciale terminato circa 100.000 anni fa ha svelato nuovi effetti causati dallo scioglimento del ghiaccio marino artico. Analizzando i fenomeni accaduti durante quest'ultimo periodo caldo, l'aumento dell'acqua dolce nella porzione di mare che va tra l'Islanda e le isole Svalbard provocato dallo scioglimento del ghiaccio aveva influenzato in modo significativo la circolazione oceanica, facendo precipitare le temperature in tutta il nord Europa. Per capire come questo sia possibile dobbiamo prendere in esame quella che i ricercatori chiamano AMOC, una delle principali correnti oceaniche che regola il clima sul nostro pianeta, in particolare nell'Atlantico settentrionale. Questa corrente funziona come una sorta di nastro trasportatore di acqua calda che viaggia da sud verso nord nella parte superficiale dell'oceano. Quando quest'acqua calda arriva nelle regioni più fredde del nord dell'Atlantico, l'acqua si raffredda, diventa più densa e quindi sprofonda, spostandosi poi verso sud, nelle zone più calde, negli strati profondi dell'oceano. E questo processo di circolazione e di scambio tra acqua calda e acqua fredda è cruciale per distribuire il calore su tutto il globo e mantenere equilibrio tra gli oceani e l'atmosfera. Ecco, quello che la nuova ricerca ha evidenziato è che con una certa probabilità ci stiamo dirigendo verso un possibile nuovo collasso di questa corrente. E se l'AMOC, se questa corrente oceanica, collassasse, e le ricerche precedenti lo hanno anche già dimostrato, i risultati sarebbero praticamente irreversibili, almeno per i tempi umani, non tempi geologici. Alcune parti dell'Europa potrebbero vedere le temperature scendere fino a 30 gradi centigradi. In media il modello mostra un raffreddamento di circa 10 gradi per Londra e 15 gradi per Bergen in Norvegia. Gli effetti però non si fermerebbero solo all'emisfero nord, ma interesserebbero anche l'emisfero meridionale. Giusto all'inizio di questo mese di ottobre, 44 scienziati di 15 paesi avevano inviato una lettera aperta all'attenzione del Consiglio dei Ministri nordico, in cui avvisavano che i cambiamenti climatici stavano generando il rischio di importanti cambiamenti nella circolazione oceanica dell'Atlantico, avvisando anche che questo rischio era stato finora sottovalutato. Questo vuol dire forse che gli scienziati del clima che ipotizzavano un futuro più caldo si sbagliavano? No, questa ricerca dimostra una volta di più che il clima è influenzato da sistemi complessi e interconnessi che rispondono in modo imprevedibile ai cambiamenti di temperatura, di correnti oceaniche e di condizioni atmosferiche in generale. E questa ambiguità solleva una certa preoccupazione in quanto complica ulteriormente la capacità di prevedere accuratamente il futuro e senza previsioni chiare diventa difficile pianificare strategie di adattamento e di mitigazione. Ma quel che è certo è che rimanere in attesa di avere un'assoluta certezza prima di agire può portare conseguenze che forse nessuno di noi riesce ad immaginare, aumentando così il rischio di essere impreparati a gestire quel che verrà.